Come si tratta di un corso biennale post-diploma? Si tratta di un corso biennale post-diploma, quindi non è che da noi debbano venire solo i periti tecnici, ma tutti coloro che hanno motivazioni, ambizioni, grande volontà e che si possono mettere in discussione verso dei progetti su cui ogni ITS è indirizzato. Noi siamo la metalmeccanica regionale, quindi a Modena parliamo di motori, parliamo di motori endotermici, ibridi, elettrici, parliamo di meccanica in generale. A Bologna parliamo di packaging, Abriga 4.0, Reggio Emilia Meccatronica, industrializzazione del prodotto, poi è partito un corso sui materiali speciali a Fornovo e l'anno scorso un corso su meccanica industrializzazione del prodotto a Forlì. Da un mese funziona anche un corso a Rimini di Meccatronica, quindi a livello regionale ci sono oggi 10 corsi. Grazie. 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 Grazie.